amici di motosport.com ciao a tutti buona giornata abbiamo da commentare con il nostro roberto kinkero la firma della formula 1 una notizia bomba che è propagata ieri dagli stati uniti l'andretti group ha saldato un accordo con la general motors per entrare in formula 1 quanto prima o meglio con il nuovo regolamento 2026 e forse nemmeno nel 26 insieme appunto al marchio americano con un logo importante stiamo parlando di cadillac racing che impatto ti ha dato robin questa questa notizia sì ciao franco ciao a tutti appena appena arrivata la notizia mi è venuta in mente mi è tornato in mente toto wolf quando commentando con parole non proprio gentili nei confronti di quella che era stata la precedente candidatura di andretti aveva detto un conto bisogna valutare che valore aggiunto porta in formula 1 una squadra che arriva perché di fatto vuol dire per noi andare a dividere la torta per 11 anziché in 10 però se arrivasse una casa un marchio iconico chiaramente a quel punto cambia tutto a parte io credo che già andretti sia un discreto marchio però credo che andretti ha capito il messaggio io dico cito toto wolf ma probabilmente la discussione sarà stata in contesti più ampi e si è presentato con una partnership di una casa anche di grande tradizione come cadillac e a questo punto cambia lo scenario ritengo la candidatura molto più credibile attendibile abbiamo visto che subito che il presidente della fia subito sottolineato contento di questo interesse lui ha chiamato un interesse per quella che è il mondo della formula 1 però direi franco che eh questo giro andretti si è mosso bene ha capito cosa mancava per avere una candidatura più importante e ha coperto quella mancanza allora è una cosa che è destinata a cambiare parecchi scenari perché eh l'arrivo di andretti appunto era stato bollato dalle dieci squadre di formula 1 eh con un no piuttosto chiaro era stato bollato altrettanto anche da eh liberty media Stefano Domenicali non ci aveva girato intorno dicendo che eh la formula 1 si basta con eh dieci squadre attive ora cambia lo scenario primo perché la fia sembra aver subito sposato la teoria eh già all'inizio della settimana ben sulla IEM aveva eh pubblicato un tweet nel quale lasciava intendere che la fia stava valutando la possibilità di allargare il numero delle squadre ricordiamolo il patto della concordia prevede fino a ventisei macchine tredici squadre quindi c'è uno spazio eh di possibile allargamento tu avevi però fatto proprio eh ieri l'altro un pezzo molto interessante nel quale dicevi come sarebbe stato difficile se non improbabile o impossibile eh l'ingresso di un undicesima squadra sì allora undicesima squadra per come la intende eh Bin Sulayem almeno da come abbiamo capito eh il tweet perché ormai lavora per tweet con i tweet Bin Sulayem ed era un tweet eh mirato a un undicesima squadra ex novo e noi abbiamo distinto un po' quelle che sono le possibilità nel proprio nel pezzo che abbiamo pubblicato qualche giorno fa dicevamo ci sono eh due possibilità acquisire una squadra eh esistente che è quello che ha fatto l'Audi ma questo non è questo il caso perché non è questo il caso di una nuova squadra tutta americana poi sul tutto americano ne parliamo tutto americano hai ragione oppure l'altra possibilità è quella di una joint venture con una squadra già esistente eh da a cui chiedere non solo la power unit ma probabilmente molto di più e perché costruire ex novo un team e qui ci basiamo su delle informazioni che abbiamo raccolto anche da eh persone che lavorano in formula uno e che hanno magari anche svolto proprio questa attività questo studio questo monitoraggio diciamo è impossibile è impossibile a meno che tu non hai cinque anni di tempo ehm un billion sede la sede la devi fare per forza in Inghilterra perché il personale è lì ecco loro però Andretti parla della sede eh dell'Andretti Group che è nascente nel nell'Indiana eh e l'idea di eh effettuare aprire e avanzare la possibilità di avere un polo tecnologico in Europa. Sì è essenziale Franco è quello che ha fatto anche AS e non è un caso che si parli molto del modello AS perché il modello AS ti consente eh di limitare molto gli investimenti perché di fatto se tu eh arrivi ad un accordo con un costruttore o comunque con una squadra già esistente per condividere non solo la power unit ma a molti altri componenti della monoposto è chiaro che il tuo investimento in termini di forza lavoro in termini di struttura è decisamente inferiore risparmi soldi che magari una grossa parte li vai a pagare al fornitore ma risparmi un sacco di tempo quello che ci spiegavano e che abbiamo analizzato è che pensare di dover assumere tra le cinquecento e le seicento persone minimo è un'impresa mostruosa perché non è personale sì una parte probabilmente del personale che puoi ritrovare con una relativa facilità ma formare un ufficio tecnico come lo insegni tu Franco è tutt'altra cosa nel senso che devi andare ci vuole molto tempo solo i processi di avviamento di queste strutture sono lunghissimi quindi una partnership alla AS su quel modello chiaramente ti consente non dico di azzerare ma di ridurre drasticamente questo passaggio io credo che ipotizzo che sarà questo il modello che utilizzerà il nuovo programma Andretti c'è spazio e quindi io credo che a questo punto diventa tutto molto più credibile. Ecco ma siccome la Honda è andata al 15 di dicembre alla riunione dei motoristi dove non è stata invitata la Ferrari per essere presente nel 26 con un proprio motore non credo che ci possa essere una Andretti General Motors in quanto Cadillac Racing con una motorizzazione Honda è più probabile e qui ci spingiamo nel futurismo ma seguo il tuo concetto del team in stile AS e mi viene da pensare che il costruttore in grado di supportare una squadra con le ambizioni di Cadillac Racing non possa che essere la Renault. A loro ne hanno Franco ne hanno un bisogno incredibile cioè in questo caso sarebbe quella che oggi amano dire l'inglese in operazione win-win cioè che va bene a entrambe le parti molto bene entrambe le parti chiaramente Andretti ha bisogno di una power unit ha bisogno di un partner tecnologico la Renault soffre la mancanza di un partner di un B team chiamiamolo di una seconda squadra sia equipaggiata col suo motore ma anche per tante sinergie non ultima quella anche dei piloti visto il caos che poi si è sviluppato con la vicenda piastri la scorsa estate quindi io credo che sia il candidato in questo momento siamo a gennaio 2023 più logico perché loro hanno proprio bisogno di una realtà come potrebbe essere quella di Andretti e Andretti ha bisogno di una realtà come quella di Renault poi sai gli scenari potrebbero anche cambiare ma in questo momento seguendo la logica dovrebbe essere la partner più probabile diciamo così Ti aggiungo un ultimo pezzetto all'analisi Roberto eh questo annuncio per ora è solo un annuncio però eh il fatto che General Motors venga allo scoperto può spingere eh la Ford a chiudere più rapidamente possibile il deal che è in corso con eh la Red Bull stiamo da tempo parlando tu sei stato uno dei primi a scriverlo che eh la Red Bull potrebbe eh nominare il suo motore ventisei con eh il marchio americano sì e credo di sì Franco credo che ehm sarà una spinta a chiudere anche perché eh stanno entrando marchi importanti proprio degli Stati Uniti quindi c'è anche una al di là del mercato globale c'è una sorta di concorrenza interna e mi veniva in mente un'altra cosa eh quando eh compianto presidente Marchionne lanciò l'operazione Alfa Romeo quindi di fatto andando a mettere il nome eh Alfa Romeo su una struttura tecnica che però era indipendente rispetto a quella che è la struttura tecnica Alfa Romeo ci furono tanti sorrisini un po' nel paddock no? Sì va beh è una sponsorizzazione caspita però adesso questa cosa vedi che sta prendendo piede perché alla fine io credo che eh poi sui campi di gara tu vedi il logo Ford su un motore vedi il logo Cadillac su un motore e io credo che a livello di marketing eh è un'operazione che funziona poi chiaramente magari noi e i nostri lettori di motosport che approfondiscono che conoscono di più le cose che tu guidi nei meandri della tecnica chiaramente sanno che non è magari un propulsore Ford però al di là di questo funziona a livello di marketing e vedo che non so come la vedi tu ma mi sa che sta prendendo un po' piede sta cosa. Ma sai io eh ti riporto a memoria una chiacchierata che ho fatto con De Meo presidente del gruppo Renault al Gran Premio d'Italia eh e De Meo mi disse l'obiettivo di Liberty Media è molto chiaro quello di trasformare dieci team se non arriverà all'undicesimo in eh dieci costruttori presenti in Formula Uno e mi sembra che tirando per la giacchetta uno mettendo le condizioni a favore di un altro si stia andando in quella direzione quindi eh chi ha ancora un team proprio e questo esempio è dato dalla dalla Williams credo che sia lì con la bancarella pronta ad aspettare qualcuno che si presenti con un marchio prestigioso per entrare in Formula Uno e magari permettere ad Orlington il il gruppo di finanziamento di uscire visto che non è il loro mestiere. No il loro mestiere è far profitti e io credo Franco che l'investimento loro l'abbiamo fatto veramente nel modello nel momento giusto. Parlo del del fondo d'Orlington è un fondo di investimento compra e rivende e credo che l'abbiamo pensata bene perché la prospettiva che abbiamo oggi è quella di una Formula Uno che va a crescere come indotto e di conseguenza va a crescere anche come valore delle squadre. Certo che se pensiamo non a una vita fa pensiamo a due a trenta mesi fa in pieno periodo covid era a rischio la vita di due squadre ti ricordi che c'erano grandi sirene grandi allarmi devo dire lì tanto di cappello a Liberty perché se non fosse ripartito il mondiale nel 2020 ci sarebbero raccolte le macerie poi dopo e invece a distanza di trenta mesi chi ha venduto si morde un po' le mani penso alla famiglia Williams ad esempio chi ha avuto la forza di tenere duro adesso si trova in una posizione molto molto buona devo dire anche a livello di di marketing soprattutto anche perché quello che a me personalmente sfuggiva ma forse non solo a me prima la Formula Uno se un gruppo avesse deciso l'ingresso in Formula Uno la prima domanda è quanto costa e non ti sapevano rispondere dovrebbe essere sì una fascia di duecento trecento adesso anche sappiamo che costa più del budget cap perché poi ci sono tante voci al di fuori però hai un'unità di misura e i grandi gruppi hanno bisogno di questa unità di misura per poter fare una pianificazione di noi in quattro anni investeremo x prima era tutto un po più fumoso e credo che questo rappresentasse un po' un ostacolo soprattutto quando vengono coinvolte persone che non sono avezze al motosport che quindi magari sono abituati a fare i conti molto più precisi anche questo aspetto che io non avevo francamente mai considerato a quanto ci raccontano sembra far la differenza soprattutto per coinvolgere nuovi partner in questo caso anche nuove case ecco per chiudere ricordiamo che cadica cadillac racing è impegnata già nelle gare eh debutterà con lmdh alla ventiquattro ore di daytona eh possiamo anche ricordare che è una macchina frutto di collaborazione con dall'ara quindi c'è un po' anche in quel progetto eh amici state attenti seguite la ventiquattro ore perché potremo trovarci anche con una Cadillac in grado di lottare per la vittoria nella prima gara del campionato IMSA eh duemila e ventitré ringrazio Roberto per essere stato con noi grazie a te Franco anche noi abbiamo il conto alla rovescia qualsiasi gara vediamo l'ora che cominciano a riaccendersi i motori non vediamo l'ora ringraziamo gli amici che ci hanno seguito fino in fondo li invitiamo a iscriversi al nostro canale così riceveranno le informazioni dei prossimi video di motorsport.com e ne arriveranno anche interviste con personaggi e eh attenzione commentate fateci sapere cosa ne pensate qui sotto Andretti Cadillac è una squadra che merita di entrare in Formula Uno è una squadra che può aprire al mondo americano questa Formula Uno fatecelo sapere ciao a tutti ciao Roby ciao